Sì, il sagittario, ripartiamo proprio dal segno del centauro, perché questa è una giornata che può essere molto utile per chi deve risolvere problemi burocratici, ma anche legali, ecco perché c'è una luna interessantissima sotto questo punto di vista, è il giorno giusto per chiedere il consiglio di un esperto, quindi per rivolgersi ad un avvocato, un commercialista, perché potete trovare delle soluzioni, anche molto vantaggiose per quanto mi riguarda. Certo, è una giornata che può alla fine risultare un po' pesante e un po' noiosa, soprattutto perché non potrete dedicarvi alle vostre attività preferite, causa mancanza di tempo libero. Andiamo alla seconda.